Musica Dopo esserci presi una pausa nella giornata di ieri, visto il periodo natalizio e vista la giornata un po' movimentata tra giri dai parenti, regali, cene, pranzi eccetera eccetera, torniamo oggi, anche se è comunque festa ne approfitto per farvi gli auguri di buon Santo Stefano a parlare di Roma perché se nei giorni scorsi abbiamo analizzato insieme la rosa-giallo-rossa guardando un pochino ogni singolo reparto, il rendimento di ogni giocatore scambiandoci le opinioni su chi dovrebbe restare e chi invece dovrebbe fare le valigie adesso parliamo di una questione comunque importante, rinnovi e riscatti sappiamo bene infatti che nella rosa attuale ci sono giocatori in scadenza di contratto mentre ce ne sono altri arrivati in prestito con diritto di riscatto che bisogna valutare chiaramente alla fine di questa stagione e capire se conviene tenerceli anche per i prossimi anni oppure se conviene rispedirli al mittente prima di cominciare vi chiedo come sempre di supportarmi con un mi piace a voi non costa nulla ma per me è molto importante per capire appunto che voi apprezzate i miei contenuti un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando attivate la campanella così riceverete notifiche sempre aggiornate su ogni mio prossimo caricamento in descrizione poi ci sono anche i link di tutti i miei profili social se non lo fate già potete seguirmi là dappertutto e anche in quel caso è totalmente gratuito quindi fatelo senza nessun problema se chiaramente li tenete interessanti i miei contenuti e quello che vi porto dappertutto detto questo possiamo cominciare allora ho deciso di dividere questo video in due parti riscatti e rinnovi semplicemente perché parliamo di due cose ben distinte se nel caso dei riscatti è la Roma ad avere la prima parola in quanto l'accordo c'è già stato e deve solo decidere se attuarlo o meno per quanto riguarda i riscatti ci sono diverse situazioni da considerare perché se è vero che comunque la Roma deve decidere se rinnovare alzare lo stipendio per quanti anni eccetera eccetera in questo caso è anche il giocatore che può dire come Mkhitary all'anno scorso grazie preferisco andare in scadenza e scegliere io la mia prossima destinazione quindi comunque sono due cose diverse che bisogna analizzare con molta attenzione partiamo fin da subito dai riscatti perché il nome più importante è senza dubbio quello di Gini Wijnaldum arrivato in prestito con diritto dal Paris Saint Germain prestito gratuito con diritto fissato a 8 milioni il giocatore in Francia prendeva 7 milioni più 3 di bonus quindi tra tutto poteva arrivare tranquillamente a 10 netti annuali mentre la Roma pagandogliene una parte gliene sta dando 5 almeno fino alla fine di questa stagione qua bisogna capire se effettivamente conviene riscattare il giocatore o no io vi posso dire la mia reputo il giocatore molto importante e nel possibile utilizzo in un centrocampo a 3 come mezzala di sinistra potrebbe liberarsi un giocatore fondamentale il tutto però viene messo in un enorme punto interrogativo perché potenzialmente il giocatore se dovesse tornare quello di un tempo diventerebbe in assoluto il top player del nostro reparto ma di gran lunga sopra a tutti gli altri che in questo momento abbiamo però bisogna vedere quanto tempo ci metterà a ritornare come effettivamente tornerà al massimo della forma quante volte riusciremo a vederlo sono tanti fattori da considerare in ogni caso 8 milioni non è tanto come riscatto anche perché parliamo di un giocatore non più giovanissimo però come ho detto avendo anche uno stipendio importante che si può tranquillamente decurtare perché credo che potendo scegliere preferirebbe restare alla Roma a Parigi non so quanto si sia trovato bene quindi ipotizzo che sarebbe contento di restare qua chiaramente se riesce ad ottenere anche risultati sul campo anche facendoglielo abbassare sui 5 milioni più o meno glieli devi dare e visto che la Roma come dico spesso non può permettersi di buttare all'aria i soldi come potrebbe fare appunto il Paris Saint Germain deve valutare con attenzione se vale la pena quindi io di principio vi direi che si potrebbe anche fare però bisogna vedere anche come torna l'olandese perché anche per il discorso dell'età devi valutare tutti gli aspetti tornerà in forma quanto riuscirò a godermelo tra virgolette sul campo bisogna considerare un po' tutto però possiamo dire che se devo andare ad occhi chiusi preferirei correre il rischio piuttosto che lasciarlo andare e appunto perdere un giocatore di grande qualità ripeto va tutto valutato fino alla fine però questa è la mia opinione attuale stessa cosa per quanto riguarda il suo diretto sostituto ma di Camarà che abbiamo preso dall'Olimpia Cos per un milione e mezzo di prestito con diritto di riscatto fissato a 11 e mezzo qualcuno parlava all'inizio quando il giocatore non riusciva a trovare spazio che il riscatto era segnato in base al numero di presenze del giocatore non c'è scritta da nessuna parte questa cosa e non credo che sia vera perché comunque dopo aver trovato la continuità Camarà ha giocato praticamente sempre quindi se ci fosse effettivamente questo discorso di riscatto avrebbe giocato molto di meno o non avrebbe giocato mai come che ne so un vainker di qualche anno fa il giocatore come stipendio prende 1,2 milioni che si potrebbe alzare ad 1,7 se il giocatore dovesse essere riscattato e io vi dico la sincera verità è un buon giocatore è un giocatore che potrebbe farci comodo perché ha delle buone qualità di dinamismo e tutto quanto però 13 milioni e un aumento dello stipendio perché come vi ho detto è tutto collegato a questo mi sembra veramente tanto vero che il giocatore ha 25 anni non è tanto avanti con l'età quindi comunque può ancora crescere e migliorare però è una spesa importante io ci penserei due volte prima di riscattarlo poi certo bisogna anche vedere anche lui come renderà da qui a giugno lo dico adesso e non lo ripeto più perché tanto è un discorso che vale per tutti fondamentalmente però per quello che ho visto finora mi sembra un buon giocatore per cui spenderei certamente di meno se la Roma riuscirà a giugno sia per quanto riguarda Wijnaldum che Camarà ad abbassare le pretese dei due club si potrebbe trovare un accordo il fatto però è che tu devi comunque rimandarglielo là e poi sperare di ritrovare un accordo su cifre minori non so se mi spiego cioè se tu vuoi prendere Wijnaldum a meno il diritto ormai è stato messo non credo che si può cambiare in corso d'opera poi non lo so magari chi è esperto di queste cose me lo potrà dire però io credo che in quel caso tu glielo devi ridare poi il giocatore tornato come fisso del Paris Saint-Germain potrebbe comunque tornare da te in un'altra modalità però attualmente è un'opzione che bisogna effettivamente valutare quindi per quanto riguarda Wijnaldum e Camarà se dovessi scegliere preferirei spenderne 8 per il primo piuttosto che 13 per il secondo a meno che magari non ci sono alternative migliori in giro per l'Europa e allora devi trovare un accordo per lui però ripeto è un buon giocatore ma mi ha entusiasmato fino al certo punto cioè mi sembra buono però magari ci spenderei meno di questa cifra che non è bassa secondo me per il valore del giocatore e adesso passiamo ai rinnovi perché ci sono diverse cose da analizzare partiamo da quello più spinoso Chris Smalling, tutti quanti sappiamo che il giocatore ha il contratto in scadenza ma ha un'opzione per il rinnovo in base al numero di presenze stagionali che finora sta raggiungendo con una facilità disarmante in quanto ha giocato praticamente sempre lui con risultati importanti con tre gol credo che sia il secondo miglior marcatore in campionato della Roma ed è una cosa molto preoccupante vi dico la sincera verità non per lui ma per tutto il resto della squadra ma a parte questo è un giocatore di livello è il miglior giocatore che abbiamo a livello difensivo è uno dei leader di tutta la squadra nel momento attuale è vero che ha 33 anni è vero che non prende poco di stipendio ma lui deve assolutamente essere confermato a meno che non hai un'alternativa di gran livello pronta fin da subito ma non lo so ecco io non ho le voci all'interno di Trigoria non so bene chi potrebbe arrivare ma considerando che difficilmente faremo spese cataclismatiche non so se effettivamente un giocatore forte come lui potrebbe arrivare al suo posto e quindi cercherà in tutti i modi di trovare il rinnovo qua bisogna anche capire se lo stesso Smalling vorrà farlo perché c'è sempre la voce dell'Inter che sui giocatori in scadenza della Roma arriva con le unghie come se ci fossimo solo noi praticamente ad avere questo tipo di giocatori ma ecco bisogna capire appunto l'inglese cosa deciderà se vorrà restare alla Roma e lì appunto dovresti cercare di accontentarlo perché è un giocatore che merita cifre importanti rispetto magari ad altri anche nel suo ruolo non faccio nomi ma avrete capito di chi sto parlando e quindi bisogna cercare in tutti i modi di trattenerlo perché è un giocatore attualmente troppo importante poi se la Roma riuscirà a non dipendere da lui così tanto allora una sua eventuale cessione sarebbe vista da me con meno rabbia però non è questo il momento quindi io se possibile preferirei riscattarlo discorso diverso invece per Belotti preso a parametro zero dopo l'esperienza al Torino qua c'è un discorso da fare perché il giocatore prende 2,8 milioni all'anno che non sono pochi per un giocatore vice dell'attaccante titolare che finora ha fatto due gol in Europa League qua c'era l'opzione per il rinnovo in base alle presenze qualcuno parla anche in base ai gol io sinceramente non lo so però se è per le presenze la Roma potrebbe anche decidere di non farlo giocare più da qui fino a giugno perché comunque di partite giocate finora ce ne sono state almeno in campionato e quindi tenerselo un solo anno qua chiaramente è tutto nel mani del giocatore perché io sarei ben felice di tenerlo come riserva dell'attaccante titolare perché è un giocatore che mi piace si sacrifica e tutto quanto per il rendimento che ha fatto finora però non ne vale la pena soprattutto per lo stipendio che prende quindi io mi auguro che lui riesca a riscattarsi e chiaramente ad entrare bene negli schemi della Roma cosa che finora non ha fatto anche per via di una preparazione che non ha praticamente svolto con il club giallo-rosso e quindi spero che si riuscirà a riscattare e in quel caso appunto scatterebbe il rinnovo automatico per due stagioni è una cosa che io voglio non perché lo stimo anche ma perché appunto vorrebbe dire che il giocatore è riuscito a fare meglio con la Roma passiamo adesso ad El Sharawi anche qua situazione spinosa perché il giocatore prende 3,5 milioni all'anno che non è poco non so se c'è stato un abbassamento di recente però guardando su internet questa è la cifra che prende ultimamente e anche lui ha il contratto in scadenza uno dei giocatori più presenti attualmente nella Rosa della Roma considerando anche la sua esperienza prima di partire in Giappone e qua io vi dico la verità il giocatore mi piace nelle ultime amichevoli si è visto che comunque ha voglia di dimostrare però deve essere sfruttato bene nel senso se l'obiettivo della Roma e di Murigno è di tenerselo come alternativa sulla fascia sinistra nel 3,5,2,3,4,1,2 è sprecato e inutile perché si sacrifica, ok ma non riesce a fare quello che effettivamente potrebbe fare a livello offensivo è inutile poi lì hai Spinazzola eventualmente Vigna hai appunto El Charaoui hai Zaleschi non serve a nulla in quel posto se invece tu mi dici El Charaoui sarà l'esterno in alto del 4,2,3,1 allora va bene il rinnovo è chiaro magari il giocatore per facilitare le cose dovrebbe accontentarsi un po' di meno perché 3,5 milioni per un trentenne comunque di scontinuo non sono pochi però qua bisogna capire appunto se effettivamente il giocatore lo vorrà per me qua dipende appunto da una questione di modulo oltre che di rendimento se il giocatore sarà più offensivo va bene tenerlo perché come alternativa per me ci sta tutta la vita non possiamo pensare di mandare via tutti se no con chi giochiamo però appunto bisogna valutare questi aspetti e capire se potrebbe essere utile in un eventuale 4,2,3,1 che si potrebbe vedere dal 4 gennaio contro il Bologna ultimo giocatore da analizzare mettendo da una parte Cioric e Biandà che difficilmente uso un eufemismo potrebbero restare alla Roma e vedersi rinnovato il contratto passiamo appunto a Nemania Matic giocatore acquistato lo scorso anno a parametro zero di 34 anni anche lui prende 3,5 milioni all'anno quindi non è uno stipendio da poco anche in questo caso sono d'accordo sull'idea del rendimento è chiaro parliamo di un giocatore non più giovanissimo che non prende neanche poco sul suo acquisto c'è un'opzione di rinnovo di un altro anno non so bene su quali basi credo semplicemente se il giocatore e la Roma vorranno farlo in quel caso sarei comunque soddisfatto perché per quello che ho visto ora Matic con i suoi limiti dovuti soprattutto all'età che avanza perché secondo me un Matic ai massimi livelli qua avrebbe fatto fuoco e fiamme però è un giocatore che può essere utile sia partita in corso che da titolare contro avversari magari che possono soffrire un centrocampo fisico o magari un giocatore come lui messo davanti alla difesa io credo che finora sia uno dei pochi ad avermi convinto sebbene il centrocampo non sia stato il reparto migliore di tutta la squadra per modo di dire e quindi se dovesse restare un altro anno sarei comunque contento perché può dare una mano non solo a livello di gioco ma anche a livello di carisma e di leadership io penso che ancora un altro anno su buoni livelli lo possa fare certo poi se vai sui 35 36 37 lì comincia a essere un po' pesante con metà però credo che abbia ancora le capacità essendo un giocatore esperto e di qualità di poter dare una mano non giocando sempre ogni partita ogni minuto perché non lo può spremere così tanto però ogni tanto può comunque dire la sua detto questo abbiamo analizzato quindi la situazione legata ai rinnovi e ai riscatti in casa Roma ovviamente adesso giro la questione a voi fatemi sapere perché voglio appunto sapere la vostra nei commenti dei sei giocatori che abbiamo analizzato ciò riceve andà per carità spero che non li dobbiamo mettere in mezzo fatemi sapere chi terreste alla Roma nel caso di Guainaldum e Camara chi dei due riscattereste se entrambi se solo uno se nessuno eccetera eccetera nel caso dei rinnovi fatemi sapere tra Smalling Belotti El Sharawi e Matic quali di questi giocatori terreste anche il prossimo anno questo è un video importante perché comunque analizziamo un aspetto cruciale anche per la prossima stagione ed è importante perché appunto mi permette di sapere bene la vostra opinione quindi non vi vergognate che a me fa piacere anzi sono contento perché è il motivo per cui faccio video e quindi scatenatevi nei commenti un saluto a tutti ancora auguri di buon santo Stefano e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti per la prossima stagione